Ha fatto discutere il nuovo regolamento sul decoro urbano nel centro storico di Pesaro, presentato martedì scorso dall'assessore all'innovazione Francesca Frenquellucci alla presenza del sindaco Matteo Ricci. Sindaco e assessore sul quale sono piovute critiche per un regolamento da alcuni ritenuto discriminatorio sull'apertura di nuove attività, aperture e regolamento che è stato chiarito con un secondo video dei Matteo Ricci postato proprio nella giornata di ieri per puntualizzare alcuni concetti di questo regolamento. Di fatto il regolamento vieta l'apertura di nuove attività su una certa tipologia di settore merceologico, attività che però sono circoscritte al solo Cardo e Decumano, vale a dire all'asse del centro che va da Piazzale Lazzarini passando per via Branca e via Rossini, così come da Piazzale Matteotti passando per via San Francesco il corso 11 settembre, naturalmente compresa Piazza del Popolo. Abbiamo dunque fatto un giro in centro storico quest'oggi, questo venerdì 28 gennaio, per capire quali di queste attività che in un futuro imminente non potranno essere aperti sono invece attualmente presenti nelle quattro vie in questione. Le attività fuori regolamento sono ridotte a un numero limitato di casi, poco o nulla fra via Branca, via Rossini, Piazzale Lazzarini con situazioni per lo più circoscritte su corso 11 settembre dove figurano un distributore automatico e alcune attività identificabili come empori o bazar etnici senza specificità di merce. Così come ci sono in via San Francesco dove figura pure la rivendita di cibo d'asporto, quale Kebab, più volte presa ad esempio in questi giorni. Ci sono poi nel corso attività come lavanderia self-service o money transfer, ma sono oltre l'intersezione con via Mastro Giorgio, ovvero oltre l'area di competenza pertinente al provvedimento. Già perché va ricordato che il regolamento sul decoro non contempla altre vie, seppur centralissime, come via delle Gallegherie, via Passero e via Curiel, per fare alcuni esempi, dove non ci saranno limitazioni a nuove aperture. Tra l'altro su Cardo e Decumano non si vede ombra di comproro, sale gioco scommesse, internet point o sexy shop. Ci sono attività di abbigliamento e telefonia a gestione straniera, forse fuorvianti all'occhio di chi non ha letto il regolamento, ma perfettamente lecite inserite nel caso dei codici a teco al quale il regolamento si attiene. A destare più stupore nel nostro giro di quest'oggi in centro è invece la quantità superiore rispetto alle attività presenti che vi abbiamo citato di locali sfitti, di locali con il cartello affittasi, vendesi. Questi sono i locali che potrebbero essere soggetti a nuove aperture, quelle sulle quali appunto l'amministrazione mette delle limitazioni, ma al contempo promuove delle agevolazioni per l'apertura di specifiche nuove attività con affitti calmerati anche in accordo con le agenzie immobiliari, come spiegato anche dall'assessore all'innovazione Francesca Frenquellucci durante la presentazione di martedì scorso. Per le nuove imprese che vogliono aprire abbiamo pensato a delle agevolazioni, dei canoni calmerati e adesso faremo tutti, una volta votato in consiglio comunale, faremo gli incontri con le varie agenzie immobiliari per aiutare nuove imprese a entrare nel mercato e dare supporto soprattutto all'imprenditoria giovanile e all'imprenditoria femminile.